C'era una taglia sugli ebrei, ogni ebreo valeva una ricompensa di 5.000 lire. Tieni viva la memoria. Poteva toccare a te ogni sera e quindi tu vivevi nel terrore. Erano in 500, sono tornati a casa in 40. Guarda le testimonianze e condividi quella della tua famiglia. Queste storie ci raccontano cosa succede quando si alzano i muri.